Segretario, ci siamo a questo punto, il 13 settembre riapriranno le scuole in Abruzzo, tutte in presenza, non ci sarà nessun posticipo, si inizierà secondo calendario. L'Abruzzo è una delle prime regioni per le vaccinazioni del personale scolastico, l'Abruzzo sta andando bene anche per le vaccinazioni della popolazione scolastica degli alunni tra i 12 e i 19 anni, quindi i numeri stanno salendo, siamo sopra già il 60% e vogliamo in qualche modo anche con l'inizio della scuola continuare nel sensibilizzare gli alunni alla vaccinazione. Gli autobus che dovranno portare i ragazzi a scuola si partirà da questa percentuale dell'80% ma si è pronti da questo punto di vista, voi che notizie avete? Assolutamente no, perché purtroppo la regione, anche al tavolo regionale per la sicurezza, la riunione c'è stata giovedì della scorsa settimana, ha evidenziato che sì c'è stato un potenziamento, ma è una percentuale molto bassa rispetto al numero di corse. L'innalzamento della percentuale di riempimento all'80% deve essere accompagnato dall'innalzamento del numero di corse da un lato e soprattutto per quello che abbiamo noi evidenziato dalla presenza dei controllori sugli autobus, perché lì è il grosso problema. Mentre nelle scuole gli insegnanti, il personale vigila sul rispetto delle regole, la mascherina, il distanziamento e così via, dentro gli autobus ci saranno più persone e non vigilate. Prima dell'ingresso a scuola, dopo l'ingresso a scuola, nei terminal e così via, non ci possono essere centinaia, migliaia di ragazzi non controllati. Green Pass per il personale docente, non docente, da questo punto di vista c'è stata qualche polemica anche nelle scorse settimane a livello nazionale, in Abruzzo qual è la situazione? In Abruzzo la situazione, dicevole, la percentuale dei vaccinati è molto alta. Qui parliamo a regime per il 13 supereremo abbondantemente il 95%. Se aggiungiamo a questi diesentati, si capisce bene che la percentuale è molto elevata. Pochi casi di persone che devono ancora definire la propria condizione medica per l'esenzione, perché sono condizioni a rischio, condizioni di salute a rischio per la vaccinazione. Abbiamo veramente scarsissime segnalazioni di persone che in qualche modo vogliono sottrarsi ai vaccini e stanno per il momento andando avanti con i green pass derivanti dai tamponi periodici ogni due giorni.